Per lo straordinario coraggio e altruismo con cui, senza esitazione, ha protetto con il proprio corpo una bambina dal violento impatto con un trattore fuori controllo. Ha salvato la vita di una bambina. Ancora una volta abbiamo dato voce a un miracolo. Ha commentato così Giovanna Covati l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica ricevuta ieri al Quirinale dalle mani del Presidente Sergio Mattarella e riservata ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno sociale. Nell'agosto 2018, sulle colline di Bobbio, il notaio Covati aveva salvato la vita a una bimba di 5 anni, figlia di un'amica. Una storia di coraggio e altruismo. Eravamo in campagna e eravamo tutti in festa per la vendemmia. È stato proprio la frazione di un secondo per cui siamo passati dal sorriso alla tragedia perché questo trattore si è sganciato e quindi ha cominciato una corsa verso di noi. Poi è intervenuta la mano del Signore perché da soli non ci saremmo salvati. Io sono stata un po' in ospedale, sono stata un po' schiacciata. Mi hanno salvato i dottori dell'ambulanza di Parma che sono venuti rapidissimi e mi hanno salvato proprio in mezzo al vigneto. Giovanna Covati, prima piacentina a ricevere questa onorificenza, ha portato a Roma con sé le figlie Clara e Giorgia e Renato Cravedi, 94 anni, il partigiano Abele che aveva il desiderio di conoscere il Presidente Mattarella. Grazie a tutti.